Salve a tutti ragazzi, bentornati qui a Retro Games Show e per la gioia di tutti noi questa sera faremo uno dei giochi più famosi in stile fantasy sullo SNES, quindi Super Nintendo, ossia The Kings of... The King, no Kings King of Dragons, giusto? Esatto, dai Fuck The King, giusto per rimanere un tema, però Dai, per chi non lo sapesse, non lo saprà mai da me, comunque Come al solito siete in compagnia di Spike, corso, ahah, non ve lo dico, vado E l'ignoto, bene, allora questo gioco si giocherà in due, per cui faremo come al solito iniziano due Vabbè, mi sacrificherò e giocherai te, toh, prego Allora, che sceglie? Io scelgo il mago, via, il fungo, il fungo Robin Hood, il clerico, no, vado col fighter Lei vai l'ignoranza proprio, esatto, guarda, guarda, quindi niente elfi, nani Ragazzi, guardate che grafica c'è, clamorosa, bene, allora, oddio Velocità portami via, esatto, lo stavo pensando anch'io Lasciami le pietre, potevi dire prima Ah, che, questa è una mossa speciale mia che avevo qui fu E già, ti sei perso la vita Mamma mia, Crepy, vadi Andiamo, andiamo, lei con questo elmo cornuto Picchi, picchi, picchi con la sfera Vieni qui La picchiare prima Lei me lo dice quando sono tutti morti Si corre in questo gioco, sì, ma manco morendo proprio I vecchi giochi in cui non si corre Solo un gioco si corre Un lupo con una balestra Che non mi ricordo neanche cos'era E' bello che sono scrigni e i mostri ti lasciano sacchette d'oro Mentre gli scrigni non trovi niente, una pietra Una pietra mia, mia, lasciami la pietra E poi è bello che questi nemici sono tutti uguali ma hanno solo i colori diversi Come tutti i giochi Oh, che ha un sbaglio tasso, con questo salto Bene, un boss 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 Dio Boss Boss E' un porco più grande Prenda, prenda i fulmi, lei Boss Vieni qui Allora, incontri Cosa ho fatto? Ho fatto un'eruzione moncana Aia Picchi, picchi E lei sta morendo Eh lo so, ma io sono un mago Questo è il re degli orchi Il re degli orchi Sì, è il primo boss E ce ne sono la bellezza di 16 Oddio L'ultimo è il drago rosso Occhi blu Gildis No, il drago rosso Oh, guardi, guardi, guardi Wizard livello 2 Fig livello 2 Sarebbe fighter livello 2 Oh, è figurina livello 2 Numero 2 Tresore in un vecchio castello Tresore in un vecchio castello Non si sa perché Per come e per quando Come ci siamo arrivati Siamo partiti alla volta del castello Allora Questo salto Questo sparato Mi scordo sempre i tasti Picchi la palla di fuoco Così muoiono tutti Poi i nemici sono sempre questi Quindi qual è il secondo boss Che ci toccherà? Il secondo boss Che vi toccherà E' un Minutino Addirittura Addirittura Ci dica un po' qualche notizia Su questo gioco Visto che Su Minotauro? No, no, sul gioco E' uscito nel 94 Fuori via dei 5 personaggi Per cui l'elfo Che non c'è C'era, c'era Lo stregone Che non c'è Già siamo arrivati? No, te sei lo stregone Sì Al Minotauro Già siamo arrivati Minotauro Cavolo Questo livello Facile Il guerrero Il chierico E il nano Ma ha finito lei Lo scopo è viaggiare Nel regno di Malus Malus Che non bebo Che l'hanno invaso Perché è stato invaso Dall'imorto Ah Ma già Un regno che si chiama Malus Non ha un bel destino Si cade Si fosse chiamato Bonus Allora Io sono morto Lo vedo, lo vedo Mi ritornerai Un po' di fulminacci Attacca Niente Attacca Bravo Occhio Ricarica Cornuto Niente Ho finito la mossa speciale Ecco Ma è un Minotauro biondo Prego Anzi no Sono ancora In vita Prenda un po' di fulmini Quindi Nel 94 Beh è più vecchio Di Dungeon No 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 Il gioco in realtà È del 91 Solamente che Nello SNES Che ci giochiamo Noè Del 94 Ah ok Prenda Prenda soldi I soldi In teoria Dice che Il gioco È giocatore singolo Ma a me non sembra No Perché noi abbiamo Una versione O forse si intende Giocatore singolo Anche in 2 Battle on a Mountain Peak Ragazzi Questo gioco è velocissimo Certo C'è il gioco di livello 3 Già Siamo di livello 3 Oh Ma adesso Ma ce ne sono 16 di livello Adesso siamo evoluti Sì ma in 2 minuti Abbiamo fatto il 3 Adesso siamo evoluti Io sparo Non capisco che lo servono i soldi Quindi Bravo bravo Ma forse Forse ci saranno dei livelli intermedi Per tipo acquisto dei materiali O forse questo è solo per l'attestimento Non guardano più una taverna Probabile Ma la tua squadra è una che mi piace Io ho un anello oppure Scoperto che è ambientato Scoperto che è ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons E' una roba del genere No però Molto simile Visto che sono Combattenti Maghi Non è Dungeons & Dragons E' un Drangon & Jens E' difficile dire un drab Giangio 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 Però questi giochi sono veramente bellissimi E' un altro che Che ne sono I moderni Ho preso la vita Anche se Io Aspetto con ansia Watchdog Che è una figata paurosa Cos'è Watchdog? Boss Uno dei prossimi giochi annunciati Non so quanto tempo Giusto? Ma che sembrerebbe essere una figata paurosa E' la Viverna questa? Si Questa qua è la Viverna Sa perché l'ho riconosciuta? Perché? E' un buon nerdo E' un giocatore assiduo di Wo Non è vero Quello è il signor Corsa Perché le Viverne? Perché? Chi è? Le Viverne Le Viverne Sono rinuncate dei draghi E non hanno le zampe Perché i draghi hanno le zampe anteriori e posteriori e le ali Mentre le Viverne hanno le zampe posteriori e ali E' un drago con le zampe anteriori e tagliate? Oddio Bene, bene Non ha Non ha Via Non ha le zampe anteriori Ha solo le ali Ma come si Faccia la mossa speciale L'ho già fatta Mi sono ammazzato No, prego No, no Gioca, gioca Il signor Baldo Non si ritira così Perché? Perché si finca Non potrebbe Eh, non prova Lui sono per i giochi difficili Aiuto Mio mago è assaltato di sangue Prenda questi fulmi Ancora E ancora Ecco, bene Come sprecare la mossa speciale Adesso a terra, eh Lei ha le spalle Perché davanti? Io muoio davanti Mi farei notare che non avete intaccato la vita Ah, ok Loro si Vale Ecco Morto infuocato Ragazzi Dai che ne manca un pezzettino Niente, aspetta che sta volando Adesso vola Spara qualcuno Adesso appena Lo vediamo Appaltetelo Eccolo qui Via Crepi Ma perché mi hanno attacca qui il sacco? Le stop a Oh È morto Wizard defeated the Weeburn Wow Arriviamo a livello 4 quindi adesso Prenda, prenda i soldi Prenda i soldi Sono leggermente svenuto Niente, non ci dà i soldi Ma questa volta non ci dà il bonus Che è successo? Si corre, si corre Non è vero Non ci ho fatto passare il livello Cave of Hydra Bene Presumo che il boss sarà l'Hydra quindi No High Hydra High Hydra Esatto Ecco, vedi anche loro la salutato Adesso punta Capitano America Capitano America e l'Hydra Oh Eccolo Livello 3 Ma noi siamo Oh A me aumenta sempre di più la spada Anche a me Guardi, guardi, adesso li ho pure più lontano Con la mia asta che Cos'è asta? Qualcosa che non dovevo fare Esatto Bello che hai visto Tu guardi No, sono venuto Che blob sono Aiuto Aiuto Via, via blob Via blob Crepi Li taglio Flabber Flabber Il telefilm che andava Il film che andava È una figata No C'era C'era Robin Williams Esatto Che l'aveva inventato lui Si, si, si Faceva parte dello scienziato No, un pazzo Pazzo ricorda? No Non l'hai mai visto scommetto Perché tanto l'alta infanzia è difficile È un'infanzia difficile Mi viene in mente Flabber Che quel fluido verde era No? Si, si Che si animava Lei ha uno spadone veramente enorme Non mi ricordo per quale motivo Eh, guarda caso Chi è il nemico Ha il hydra Una coda per ora Aspetta, eccole Ha tre teste Due, eccole Scommento che una fa un fuoco Una fa il ghiaccio E l'altra al veleno Ecco Ma ha preso al volo proprio Ora spunta la terza Ah, fregati Ah, guada Vada, vada Io sparo le magie Ahia Vedi, quella spara al fuoco Ce l'ho visto giusto Ah, quella spara i blobber Ecco E l'altra cosa spara? Dove è fuggita l'altra? Codarda Eccola Eccola Sarebbe una testa Eh, una testa è caduta Una testa è caduta Ecco E le ho detto che mi cungelava Coda tra le gambe Potrebbe essere testa Ah, non c'è Basta Questo è Schiacci start Ah, morto sono Morto, cos'è? Sardo Morto sono Crepida Bravo Ah, lei ha sconfinto l'idra Pi, chi, chi? Pignan No, c'è un fighter Ah, pignan Stavolta nemmeno passiamo lì Ah, sì, sì Chi è, chi è, chi è? Chi è? Eracle Massa la brutta Il red dragon Jadis No, Jadis Jadis From his long slumber No, bababababah Andiamo contro il dreggo Il dreggo Il dreggo Il dreggo Il dreggo Lei è pugliese invece Perché non ci si vede più lo sfondo? Oh, sono cambiati i nemici Che vengono aviotrasportati E noi siamo nelle tenebre più complete Non è che ha scherzato qualcosa Lei ha fatto No, no Lo sfondo No, no Lo sfondo Non è questo Devo vi spiegherò anche perché Perché? Ce lo sono rubati Veramente Prima c'era Lo sfondo Perché? Voi non ci crederete mai Chi è Il boss Chi è? Dai, pensate Oscurità Zombi Scheletri E chi è? Ehm Pennuti inquietanti Secondo me chi potrebbe essere? Non lo so Non ci trovi Non c'è un cazzo Giustissimo Giusto Come lo dico che sia Ah, forse dall'altra parte Ah, no Adesso Ah, ecco Adesso Quindi i nemici sono voluti Ecco Uomini pesci Tra bella Se viene fuori Prenda quella Quella La bolla Non la manchi Diventate ranocchie Cattico Saltiamo nel nulla? Ah, noi abbiamo fatto Ah, era una via di mezzo Questa Ah Infatti qui ci sta Un ciclope In questa Io l'ho tratto Anche perché un ciclope In una nave Vi va a lasciare a mela A mela Troppo tardi The giant Non ho letto I pennuti inquietanti Ci sono comunque Sì Anche i maiali Vedo che sono una costante Praticamente Manche i ciclioni per ora Esatto Non sono abbastanza fan In questo mondo Sono i maiali Che mangiano i ciclioni E non hanno i ciclioni Che mangiano i maiali Attac Via, via Mi sento molto Attac Chi ti senti molto? Mila Attac Due corpi Nella pallavolo Prego Due corpi Nella pallavolo Visto che stiamo parlando Di cellaci Attac Bene Cambiamo scenario Torniamo al buio Torniamo al buio Oh, passiamo al livello Oh, che spada La spada sembra più grande E io Ecco La morte è sempre più vicina Più veloce Però io A livello 20 La spada è lunga quanto qua la colonna È una miseria Ah, non lo so Sto scattando C'è scritto quanti livelli 15 No, no, no I livelli nostri I livelli personali Non lo avete voi Ho piegato Ho piegato Forse quelli L5 Stato di livello 5 No, no, no Quanti livelli massimi Possiamo rivedere Ah, questo non lo so Vediamo, vediamo Crepate, crepate E niente Sono muerto Ma se io volessi cambiare Ormai sono destinato A finire il male Eh, mi salissi Mannaggia Una piccola pecca Dai, che ci siamo al boss Sì, lo percepisco Sta arrivando Eccolo Ma non è un ciclope Forse è un mid boss Enemy c'è scritto Anche nelle altre C'è scritto Enemy c'è scritto boss L'altro c'è scritto enemy Allora, qui c'è scritto ciclope Quindi qualcuno mente Qualcuno mente No, questo è un mid boss Ma hai detto No, è troppo facile avere Infatti è un mid boss È un boss di mezzo Come la terra Andiamo avanti Sì Infatti, vede Sì, sì Entriamo nel castello Musica finisce Ovviamente è sempre buio Nonostante ci sia La musica è inquietante E le finestre che porte Esatto Porchi che scendono ovunque Di vario colore Un rosso, un blu I Power Rangers Tra un po' si potrà fare Evocano Gli animali Cos'è che erano Evocano pure Quello con gli animali Il Zon Ranger Cos'è il Zon Ranger? Non ne ho idea Il Zon Ranger Oh, oh, oh Maledetto Io vi saluto Siamo passati il livello Lei è passato il livello Io no Sì, è vero Adesso sparo ancora più distante Prendi quello Prendi quello Beh Che hai? Forse i soldi vi fa passare l'esperienza La FI I soldi vi permettono Sì, è probabile Ma infatti sopra EP Probabile Forse non sono soldi Sono esperienza EP telefono casa No, dai Sono morto di nuovo Per la 273 Sì, sì Quelli non sono soldi Sono esperienza Quale? Quei sacchettini Guarda, vai un attimo lì Chi è? Aspetta Io Allora, come dispiessi Non ci arrivi Vediamo Tanto dobbiamo arrivare Al ciclope Polifemo Non salti Che ci metta Ci metti tre ore Aspetta Sì, sì È salita Sì, sì Bene Sì, sì Sì Scala il volo Cadono nel vuoto Oh, maledetto Uccida, uccida Uccida Uccida, sopporto E la sopporto Eeeh, quanto fa il cattivo Miei 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 Andiamo dal dreggo Dal dreggo Dal dreggo Dal ciclope Dal ciclope Eccolo il ciclope Finalmente Polifemo Miei Quando sei brutto Ah, che pezzi Oh Ah, che pezzi Vabbè, dai Si sacrifica Il povero cozzo Siete, il fighter Sì Sei passato il livello È troppo tardi Dai, che lo picchio Mentre Lei ha uno di vita L'ho visto Ah, vedo Che ha Lei ha anche la mossa speciale Vedo che non la usa Vedo le Svelo Il occupatore di questo gioco Con parole sue Mi piacciono I colori Freddi per lo sfondo Aiuto Sgargianti E colorati Per i nemici Per i nemici Sì, perché i nemici sono O maiali Rossi Viola Scuro Blu Verdi Scuri Picchia picchia Il minotauro rosso Occhio Ti carica Il minotauro marrone Con le meshe rosse Con le meshe gialle Era bianco Ah Lei è E' perito Ahah Hai finito Inserisci 50 centesimi Ho vinto io Va bene Direi che Possiamo fermarci Altrimenti No Dopo ci sarebbe stato Dopo ci sarebbe stato Qualcuno molto potente I ragni Perché è raccolato Orrendo E niente Questo era The Kings of Dragons Non male Gioco dello SNES Molto molto carino Però Al contrario di quello Che dice il signor Bald È anche un po' difficile Dice che Siamo usciti a Soprattutto Ah dai Per me è un po' Noi di giusto Ma no No Dai Sentiremo i commenti Magari leggeremo i commenti Dei pubblico Per chi ci apprezzava Esatto Bene Come al solito Vi ringraziamo Vi invitiamo a passare Sul nostro canale Youtube Videogames Addicted E per il resto Ci rivediamo al prossimo episodio Qui sempre su NecoTV Ciao a tutti